sul Milan visto contro la Roma. Ci brucia perdere, figuriamoci dopo una partita dopo quella di stasera. Abbiamo affrontato una grande squadra e per 70 minuti non siamo stati messi sotto. Il Milan ha giocato alla pari, a tratti è stato anche superiore, non abbiamo avuto la fortuna di trovare la via del gol, poi la giocata di Zecco, sposta gli equilibri, e ci ha un po' tagliato le gambe. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, a nessuno.